cari amici benvenuti in una nuova lezione e purtroppo oggi non posso farvi lezione perché devo andare dal dentista e quindi rimanderemo la lezione alla prossima settimana e anzi credo che il dentista sia già arrivato e vediamo cosa avrà da dirmi buongiorno 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 dentista buongiorno tutto bene allora io ecco prendo solo il mouse un attimo allora andiamo subito sulla slide come come vede infatti sono il dentista infatti io farò la parte la parte azzurra bravissimo ci siamo capiti allora partiamo subito e con il dialogo dal dentista è già arrivato ma ma partiamo col dialogo dal dentista ecco allora buongiorno dottore buongiorno a lei si accomodi allora mi dica che problemi ha ho un dente che mi dà fastidio sento il caldo e il freddo e ogni tanto mi fa male poi ho spesso le gengive gonfie e infiammate quando è stata la sua ultima visita da un dentista circa tre anni fa vediamo il dente apra bene la bocca è questo premolare vero e sì 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 è già c'è una piccola carie dobbiamo toglierla se vuole può venire la prossima settimana ma visto che le dà fastidio le consiglierei di toglierla subito va bene dottore facciamo subito perfetto la carie non è molto profonda ma dovrò fare la farà male ma no sentirà solo una leggera puntura la fanno anche i bambini eh lo so ma io sono più pauroso di un bambino non si preoccupi apra la bocca così metto l'aspiratore ecco qui ora apra bene così faccio l'anestesia è fatto allora ha sentito male no no per niente visto ora aspettiamo qualche minuto che faccia effetto adesso userò il trapano per asportare la carie il trapano fa un po di rumore ma non si spaventi non sentirà alcun male va bene ecco fatto ora si sciacqui bene con l'acqua che c'è in quel bicchiere grazie dottore ora faccio l'otturazione userò questa pasta di resina per chiudere la cavità del dente e apra la bocca ma sentirò male ma certo che no stia tranquillo apra bene la bocca ecco ora faccio indurire la pasta con la luce blu ancora un po di pazienza a posto grazie mille faccia un altro risciacquo con l'acqua e controlliamo le gengive va bene allora vediamo sì c'è un po di gengivite per via del tartaro quando è l'ultima volta che ha fatto una pulizia dentale da un dentista sarà almeno cinque o sei anni credo allora le prenoto una seduta di igiene dentale rimuovendo tutto il tartaro e la placca vedrà che risolverà anche il fastidio alle gengive perfetto però la gengiva gonfia là in fondo potrebbe essere il dente del giudizio le capita di avere male sì qualche volta sento delle fitte proprio come se il dente volesse uscire allora dovremo fare una panoramica e vedere se è il caso di fare un'estrazione estrazione dottore beh non è detto che sia necessario non ci pensi per adesso in ogni caso è un'operazione di routine ed è del tutto indolore capisco poi ho anche visto che anche un molare scheggiato le dà fastidio qualche volta sì quando mangio si è scheggiato due anni fa quando sono caduto per adesso arrotondo un po la superficie così è meno tagliente grazie dottore va meglio adesso se però le fa male torni a farsi vedere il dente potrebbe essere da devitalizzare o magari dobbiamo mettere una casa vero sì va bene sì farò come dice lei abbiamo finito si ricordi di non mangiare o bere nulla di caldo fino a stasera se non ha altri problemi torni il prossimo anno per un controllo grazie di tutto dottore grazie a lei e si ricordi la seduta di igiene dentale tra due settimane due settimane grazie e arrivederci arrivederci a lei bene e arrivederci e spero di non vederla ecco chi lo so chi lo so di non vederla presto ci vediamo nella prossima nel prossimo dialogo ciao a tutti ciao 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 bene bene ci vediamo amici nel prossimo dialogo ci vediamo nella prossima lezione in questo caso la lezione non ho potuto farla perché sono andato dal dentista quindi avete ascoltato il dialogo con il mio dentista che nel frattempo mi ha riparato tutti i denti e problemi di gengive problemi di capsule e otturazioni varie trapani e iniezioni quindi avete imparato qualche parola in più dedicata al legata al mondo del dentista se avete dei dubbi su qualche parola che avete letto o sentito ovviamente scrivetelo nei commenti e noi vi aiuteremo vi chiedo come sempre un like o un seguimi sul canale youtube siamo su itapertutti.blogspot.com facebook twitter ovviamente youtube e altri tanti social prima o poi metterò tutti i loghettini di tutti i social sulla barrettina di italiano per tutti ma noi ci siamo sempre ci vediamo nelle prossime lezioni di italiano per tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti